salve a tutti sono maurizio becci il vostro presentatore fidato di tutti gli anni della festa della santissima maria del monte di racal muto e adesso andiamo a presentare degli artisti allora i primi sono michela musolino e fabio turchetti allora michela musolino ricordo che una cantante siciliana americana riconosciuta a livello internazionale nipote di siciliani immigrati in america una grande e bella storia siciliana qui in america ha riscoperto le proprie origini culturali proprio attraverso i canti e la musica popolare siciliana di cui è una grande interprete e poi anche fabio turchetti che è un compositore e fisarmonicista cremonese che viaggia per tutto il mondo con la sua musica dividendo il suo tempo fra un repertorio di revival folk italiano e le sue composizioni oltre ad esibirsi turchetti scrive anche libri infatti molti libri sul tema della musica quindi è anche una eccellente scrittore insieme musolino e turchetti hanno creato terra sangue mare con il percussionista michael delia il cui ed omonimo ha ricevuto un eccellente risconto pubblico e acclamazione della critica è stato incluso fra l'altro nell'elenco di pop mathers di the valve best world music album per il 2016 ed è riprodotto su stazioni radio di musica mondiale in tutto il mondo musolino e turchetti presenteranno un concerto di folk di origine ovviamente siciliane incluse canzoni tradizionali e contemporanee nonché alcune composizioni originali basate sulle canzoni che hanno recentemente registrato sul loro cd terra sangue mare rilasciato nel 2016 il cd è stato ben accolto sia dal pubblico che dalla critica quindi un grande abbraccio a musolino e turchetti ciao a tutti voi raccamottesi canadesi i amicela musolino and this year with my good friend fabio turchetti we were hoping to come visit you and play sicilian folk music to you at the festa della madonna santissima del monte but since 2020 isn't working out the way any of us expected we can only meet you and celebrate with you and play music for you here on this video but we promise you next year for 2021 we'll make it up to hamilton for the festival so we ask you everybody in hamilton to stay healthy this year we vogliamo tanto tanto bene e insieme l'anno che viene faremo festa suoneremo la musica siciliana e mangeremo dei taralli dolci e vi auguriamo tanti tanti qui suzzi peggi Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info www.mesmerism.info www.mesmerism.info